Rapina in banca, acciuffati dai carabinieri di vallo del capitano mennato Malgeri, due malviventi napoletani. Finanziamenti per 27 milioni di euro per la viabilità e lo sviluppo agricolo del Cilento, ad annunciarlo l'avvocato francochirico, presidente del consorzio Velia. A Scea ecco la nuova giunta del sindaco D'Angiolillo, l'incarico di vice sindaco a Stefano Sansone e poi le dichiarazioni del neosindaco di Gioi, Maria Teresa Scarpa, Caselle Impitta di Franco Nuzzo e Deneo sindaci del Vallo di Diano. Camerota, tutto pronto per la ventitresima edizione del Meeting del Mare. Io ricordo il tema di quest'anno, tutti gli ospiti annunciati dal patron Don Gianni Citro. Palinuro, al via gli eventi della Settimana della Cultura. Benvenuti e ben ritrovati, nuovo appuntamento con le informazioni della TG7, in apertura subito la cronaca perché sono stati acciuffati dai carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal capitano Mennato Malgeri, due dei tre malviventi che ieri mattina hanno messo a segno la rapina a velina ai danni della filiale della BCC Buccino Comuni Cilentani. Beh, la loro fuga è durata davvero poco, sono stati intercettati e bloccati sulla Cilentana all'altezza del comune di Perito. Per loro si sono aperte le porte del carcere di Vallo della Lucania e sono entrambi del Napoletano. Ma ascoltiamo i dettagli e vediamo le immagini. È durata solo poche ore la fuga dei rapinatori che nella tarda mattinata di ieri hanno messo a segno la rapina ai danni della filiale della BCC Buccino Comuni Cilentani, sita in località a velina, nel comune di Castelnuovo Cilento. Grazie all'imponente caccia all'uomo avviata in tutto il Cilento dal comandante della compagnia Carabinieri di Vallo Mennato Malgeri, i malviventi sono stati bloccati dopo poche ore sulla Cilentana, all'altezza dello svincolo di Perito, a bordo dell'auto utilizzata per dileguarsi una lancia Y. I carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno infatti acquisito le immagini di videosorveglianza dell'Istituto di Credito Cilentano, riuscendo a risalire all'auto dei rapinatori in fuga. A finire in manette due napoletani, il 39enne Francesco Cairo e il 51enne Antimo Varriale, una volta all'interno dell'Istituto di Credito e con volto travisato, hanno minacciato la cassiera facendosi consegnare la somma di circa 1000 euro. Di qui la fuga che si è protratta fino alle 16 del pomeriggio di ieri, quando a seguito dei numerosi posti di blocco dispiegati lungo tutto il territorio cilentano, che ha visto coinvolti anche i carabinieri della compagnia di Agropoli, sulla Cilentana, all'altezza del comune di Omignano, i carabinieri di Vallo, coordinati direttamente dal capitano, li hanno intercettati e bloccati mentre facevano rientro nel napoletano. Dai primi accertamenti emergeva la presenza anche di un terzo complice, sul quale le ricerche sono tuttora in corso e gli investigatori stanno stringendo le attività di indagini. Dopo le formalità di rito, i due sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Vallo a disposizione dell'autorità giudiziaria. E non è la prima volta che il capitano Malgeri si dimostra un osso duro per i criminali. È lui, infatti, che ha arrestato la banda rumena che rubò il tesoro di San Pantaleone, recuperando gran parte del bottino. Non solo, ha arrestato anche i due ladri emigrati che hanno pestato a sanque un collega nel tentativo di sfuggire alla cattura, scoprendo così il covo di una banda specializzata in furti nelle abitazioni. E di recente sono stati arrestati quattro persone in quattro diversi comuni del Cilento per tentata corruzione ai danni del funzionario del comune di Pollica. Ed ora torniamo ad occuparci del risultato elettorale. Torniamo ad Ascea perché a poco meno di 48 ore il riconfermato sindaco Pietro D'Angiolillo annuncia la nuova giunta. Beh, non mancano le novità ad iniziare dall'incarico di vice sindaco, ma ascoltiamo. A meno di 48 ore dal risultato elettorale il sindaco di Ascea Pietro D'Angiolillo annuncia la nuova giunta. In squadra qualche riconferma, ma anche volti nuovi venuti fuori dal risultato elettorale. Ad iniziare dal vice sindaco, l'incarico è stato affidato a Stefano Sansone, 38 anni, con oltre 500 voti e stato tra i più votati. Avrà anche la delega al bilancio, programmazione economica ed urbanistica. Una bella affermazione per Sansone che nella passata tornata elettorale aveva appoggiato quale candidato a sindaco Egidio Criscuolo nella compagine Faria Ascea. Valentina Pica, con 436 voti, riconfermata al Sessore al Turismo. Si occuperà anche di agricoltura e politiche sociali. Luigi Agressa, già consigliere nella passata amministrazione, con 342 voti, avrà la delega ai rifiuti, uggiene urbana, verde pubblico e politiche della comunità montana. Altra novità in giunta è Alessandra Vaccaro, 28 anni, la più votata, con 597 voti. Avrà la delega ai lavori pubblici, sport, pubblica istruzione e politiche giovanili. A completare la maggioranza ad Angiolillo, Angela D'Angelo, Renata Di Genio, Vincenzo Pizza ed Emilio Puglia. Nei banchi dell'opposizione siederanno, oltre al candidato sindaco Egidio Criscuolo, tre donne, Lucia Grazioso, già in minoranza nella passata amministrazione, Maria Teresa Di Martino e Caterina Cammarano. Anche il gruppo Tre Torri di San Mauro Cilento, con Giuseppe Cilento, sindaco, ha deciso la giunta. Ebbene, Veronica Schiavo sarà vice sindaco, Costantino Laselva, assessore, diventa operativa naturalmente da domattina. Intanto ecco il sindaco Giuseppe Cilento, già all'indomani della elezione, ha annunciato che rinuncerà alla sua indennità. Quindi Giuseppe Cilento non perceperà l'indennità da primo cittadino a favore della comunità che si appresta a tornare ad amministrare. Intanto importanti novità sul fronte viabilità e sviluppo agricolo per il territorio cilentano. In arrivo ben 27 milioni di euro e ad annunciarlo nei giorni scorsi il presidente della Consorzio Velia, Franco Chirico. Ascoltiamo. Finanziamenti per ben 27 milioni di euro per la viabilità e lo sviluppo agricolo del Cilento. Ad annunciarlo l'avvocato Franco Chirico, presidente del Consorzio Velia. L'occasione è stata data dalla giornata dedicata alla festa della Madonna dell'Acqua. Dinanzi ad un'attenta platea in prima fila, numerosi primi cittadini, il presidente Chirico ha annunciato ben 16 milioni di euro finanziati dalla regione Campania per realizzare il secondo lotto della strada di Galento Stio e 11 milioni di euro direttamente dal Ministero delle politiche agricole per estendere l'irrigazione della di Galento a ben 11 comuni collinari. Corgo questa occasione per comunicare che recentemente il Consorzio Velia ha acquisito in due buoni risultati. Ha acquisito in un finanziamento di 11 milioni di euro dal Ministero delle politiche agricole per estendere l'irrigazione nelle aree collinari di ben 11 comuni. Ciò a cui ricordo il Consorzio Velia, Ascea, Castelnuovo, Salento, Orria, Perito, Lustra, Stella Cilento, Sessa, Casalvelino e anche Pollica. In aggiunta a questo finanziamento il Consorzio ha acquisito anche dalla regione Campania il finanziamento di 16 milioni e 800 mila per completare, per realizzare il secondo lotto della strada di Galento Stio. Tale finanziamento sia per i comuni dell'Alto Cilento e sia per i comuni del resto del territorio costituisce un passo fondamentale per il nostro futuro perché grazie al suo completamento vedremo realizzate molte nuove funzioni che oggi non esistono. Provo a ricordarvele alcune. Innanzitutto la riduzione congrua dei tempi di percorrenza degli abitanti comuni del Cilento Nord per arrivare alla superstrada e quindi al mare e alla ferrovia. Ma anche per i visitatori del parco e per i turisti della costa possono accedere alle aree interne più pregiate, suggerite, suggerite migliori del parco, quale le gole del calore, le fante del cervati, i sistemi rupestri e tante altre cose interessanti che meritano di essere visitate nel Cilento interno. E a sossegno dell'operato dell'Avvocato Franco Chiri con numerosi primi cittadini che hanno preso parte alla giornata dedicata alla festa della Madonna dell'Acqua, rinnovando stima e naturalmente fiducia verso l'operato dell'Avvocato. Sentiamo. Maria, la nuve è l'amaro e non abbandona. Da rutino a perito, da Cicerale a Dorria, gli amministratori del Cilento al fianco del presidente del Consorzio Velia, Franco Chirico, per lo sviluppo del territorio. In occasione della tradizionale festa della Madonna dell'Acqua, numerosi primi cittadini hanno raccolto l'invito dell'Avvocato, rinnovando nei suoi confronti stima e fiducia a celebrare la messa Don Guglielmo Manna. È un'opportunità straordinaria quella che ci viene offerta in questa circostanza in cui noi ricordiamo, celebriamo solennemente direi la grandezza della Madonna dell'Acqua, ma è è anche questo un momento idoneo per poter fare volare un po' sul Cilento questa donna. È un bel momento da ricordare, è un bel momento per questa realtà che ormai è una realtà imponente sul nostro territorio ed è una realtà alla quale Rutino guarda con assoluto interesse e vicinanza. Noi ne godiamo il panorama e speriamo quanto prima di goderne anche i benefici in termini di incoming turistico e soprattutto per quanto riguarda poi l'acqua per l'agricoltura che per noi è assolutamente vitale, importantissima. Io più volte l'ho già sollecitato al Presidente del quale sono certo farà tutto il possibile per far sì che Rutino che guarda la diga possa non solo guardare l'acqua ma avere anche tutti i benefici economici che da questa possano derivare. Una realtà questa che ci lascia senza parole, veramente organizzata benissimo, il Presidente Chirico è stato capace di creare un piccolo impero che si autogestisce con presenze di decine di migliaia di persone all'anno e riesce a dare a tutti un motivo valido per venire, per essere contenti e per tornarci. Quindi applausi a scena aperta per il nostro Avvocato Presidente Chirico. Il Presidente, l'Avvocato Chirico ci dava tra l'altro delle buone notizie riguardo la possibilità di usufruire dell'acqua della diga per il territorio collinare che per noi è proprio una notizia importantissima, con tenacia e determinazione e soprattutto avendo una visione e una prospettiva ben chiara di quello che si vuole e di come ottenerlo e penso che questa sia una delle esperienze che è andata a buon fine, proprio sfruttando la capacità di prevedere e di realizzare quello che si prevede. Sì, una realtà importante con le sue ricchezze, le sue peculiarità e quindi non anticipo nulla perché anticiperà il Presidente la notizia di finanziamenti che arriveranno per questa zona. Il Presidente ormai lo conosciamo da tempo, ogni anno ci stupisce, nonostante è sempre grintoso, sempre rampante, sempre pieno di iniziative e quest'anno ci darà ulteriori notizie, ci darà le notizie del Ministero della Politica Agricola, ci darà le notizie della strada che dal nord, diciamo, della parte interna del Cileno, quindi della parte di Gorga collegherà la diga. L'OASI ormai è diventata una realtà di attrazione turistica importante e quindi tutti noi sindaci del territorio, del comprensorio che gravitiamo su questa parte dell'OASI dobbiamo esserne orgogliosi e dobbiamo fare in modo di sostenere tutte le iniziative che l'Avvocato Chirico sta portando avanti. Non demordiamo neanche sul Parkway che è una realtà che possiamo, un progetto realistico secondo me, che possiamo portare avanti, lo dobbiamo solo sponsorizzare e quindi siamo contenti e siamo vicini all'Avvocato Chirico dell'OASI. Quando cammino mi sento una gioia, da Maria mi sento chiamà, mi sento dire venite, venite che ti voglio perdonà. E torniamo alle amministrative, ci spostiamo a Gioeci Lento, conosciamo insieme il neosindaco Maria Teresa Scarpa in questa intervista realizzata da Antonio Pagano e poi le immagini dei festeggiamenti. Diciamo che come accade molto spesso non si ha una piena consapevolezza, però man mano adesso che stanno passando i minuti, le ore, insieme a tutti i componenti della lista e ovviamente che andranno a comporre la Giunta ci stiamo già confrontando, quindi sta diventando man mano sempre più realtà questa sensazione. È bello sentire l'affetto delle persone della cittadinanza che essendo molto concreti, perché molto spesso si sottovaluta la cittadinanza, ma sono loro a essere più concreti di noi che siamo, alla fine ci definiamo sognatori, anche se concreti, concreti sognatori, sono loro che ci stanno anche già cominciando a dire eh però c'è questa cosa, non me la dimenticate, dobbiamo fare quest'altra cosa e quindi ci stanno già dettando in questi minuti il cronoprogramma delle attività. Io adesso sto parlando come rappresentante di Gioia e ne sono particolarmente orgogliosa, perché credo che dal cilento collinare, dal cuore del parco deve nascere una positiva proposta, perché dobbiamo essere contributivi ed essere capaci di dare quello slancio in più anche al parco nel suo complesso. Quindi io sono orgogliosa di rappresentare le comunità di Gioia e Cardile e cercherò di fare del mio meglio e sono sicura di poterci riuscire perché non sarò sola, proprio perché queste persone sorridenti, che vedete alle mie spalle, eh dal primo all'ultimo, anche chi non è stato eh eletto avrà un ruolo e questa in realtà da parte mia è una minaccia. Ecco, davvero un bel risultato, a chi lo dedichi? Lo devo dedicare alle comunità di Gioia e Cardile, a tutte le persone, eh chi ha contribuito esprimendo il voto per noi, chi non ha votato noi ma è stato ai comizi e ci ha comunque ascoltato ed è venuto vicino a noi a dirci la sua opinione, anche a spiegarci perché magari non ci avrebbe votato. Quindi io lo devo dedicare a tutti gli abitanti di questa fantastica comunità perché eh sono persone nobili. Ecco, ora come intenderete lavorare? Beh, questo lo sveleremo poi, altrimenti tu non avrai più motivi di farci le interviste e soprattutto di conoscere uno a uno gli altri. Quindi dovrete aspettare, ne vedrete di belle. Beh, davvero complimenti a Maria Teresa Scarpa, ora a Caselle in Pittari per la riconferma, anzi per la elezione del sindaco Gian Piero Nuzzo, già amministratore cinque anni fa, l'intervista di Vito Sansone. Sì, palloncini sono per una persona che non c'è più materialmente ma è come se fossi ancora tra noi e questi palloncini testimoniano il suo volere, cioè il volere essere in mezzo a noi e quindi farà la sfilata in mezzo a noi e ovviamente la porteremo sempre nel cuore, nella mente e nel cuore. La prima dedica sicuramente per Santina. Allora, mentre a tutti quanti i cittadini e a chi l'ha votata e anche a chi non l'ha votata, perché comunque è stata una conclusione di una campagna elettorale abbastanza serrata. Sì, un uomo, il suo popolo che lo spinge in salita perché se no quest'uomo, questo sindaco non ce la farebbe ad affrontare le salite. È una frase scontata, noi lo abbiamo sempre fatto, l'ho fatto io nei primi dieci anni, l'ha fatto Maurizio Tancredi, negli altri cinque anni. Siamo stati sempre il sindaco di tutti, se per sindaco di tutti si intende garantire i diritti di ogni cittadino. Continueremo ad esserlo nella continuità di una linea politica e di una progettualità, ma ovviamente essendo aperte a qualsiasi proposta che ci verrà non solo dalla minoranza ma anche dalla popolazione e ovviamente con la serenità che ci ha sempre contraddistinto. Qual è stato il segreto di questo successo? Qual è stato? Il segreto di questo successo? Il segreto di questo successo è molto semplice, secondo me, al di là di quella che è l'opera quotidiana che fa un sindaco e quindi una piazza, un depuratore, insomma opere pubbliche ed altro, è il rapporto quotidiano che noi abbiamo con la gente. Noi siamo vicini alla gente con i nostri pregi e i nostri difetti, 365 giorni all'anno per cinque anni, non usciamo l'ultimo mese, gli ultimi due mesi o gli ultimi tre mesi. Il rapporto quotidiano con la gente è il rapporto che ti permette, anche quando sbagliamo, ovviamente perché è normale che si possa sbagliare, di essere perdonati da un popolo che però si sente rappresentato prima di tutto sul piano umano, prima ancora che amministrativo, da me ma soprattutto anche dagli altri consiglieri che si sono avvicendati in questi anni. In conclusione sindaco Nuzzo, di cosa ha bisogno principalmente questa comunità? Questa comunità in questo momento ha bisogno di serenità, io l'ho detto su un palco, tendo la mano a tutti quelli che con la stessa mia lealtà e la mia stessa sincerità sono pronti a stringermela, la mia mano è tesa, ha bisogno di serenità e ovviamente poi anche di altre opere per, come dice il nostro slogan, continuare a crescere. La nostra azione amministrativa dopo aver cambiato l'aspetto urbanistico del nostro paese sa quello di accendere i riflettori su un paese che è vivo, che è operoso, che porta per la gastronomia e per tante altre cose un sacco di persone qui a Casella e viene spesso e volentieri, non per merito del sindaco che è un semplice cittadino in questo, ma per merito dei casellesi, spesso e volentieri citato come esempio negli altri paesi del Golfo di Policassio e non solo. Buon lavoro quindi anche al sindaco Nuzzo, ancora amministrativo 2019, ci spostiamo però nel Vallo di Diano, queste elezioni tra nuovi primi cittadini e conferme hanno regalato non poche sorprese, vediamo. Grande soddisfazione e voglia di mettersi subito al lavoro per le comunità, sono le prime dichiarazioni all'unisono dei sindaci neoeletti nel territorio. L'unica sindaco donna del territorio, Maria Antonietta Scelza, scelta come primo cittadino di Salvitelle, ha infatti dichiarato di essere immensamente soddisfatta per l'importante risultato elettorale conseguito, emozionata ed onorata. Ringrazio la mia squadra, ha continuato tutti coloro i quali ci hanno sostenuto ed il popolo di Salvitelle. Continuerò con impegno, determinazione e tenacia ad operare per il bene della nostra comunità. La vittoria ha assunto un significato diverso, siamo tutti quanti soddisfatti, sia io sia i candidati consiglieri comunali che mi hanno accompagnato in questa competizione elettorale e faremo del nostro meglio per amministrare ancora una volta San Vila Ottanagro nell'interesse pubblico, esclusivamente pubblico. E' normale che gli altri locati non possano rappresentare nessuno se non loro stessi, noi invece rappresentiamo il popolino perché il popolino come siamo noi ha bisogno di noi, ha bisogno di noi per difenderli e il popolo per questo ha scelto noi. Soddisfazione prima di tutto, secondo è il duro lavoro che mi aspetta, perché conoscendo un po' quali sono le competenze del sindaco e tre la soddisfazione della campagna elettorale tranquilla, senza eccessi e con la voglia, soprattutto in questi giovani, sia nella nostra stessa, sia nella nostra stessa passaria di voglia di fare per il paese. Sono contento perché c'è stato un afflusso abbastanza importante con quanto riguarda gli elettori e poi soprattutto perché sono contento per aver fatto questa squadra di giovani che hanno tanta voglia di lavorare, questo è un buono auspicio, io credo, nei giovani e mi auguro che in questi cinque anni daremo molto al nostro paese. I risultati sono andati ben oltre quello che potevamo aspettarci, perché probabilmente siamo riusciti a parlare bene alla gente, la gente ha apprezzato il nostro discorso, che è un discorso di unità, di creare l'orgoglio di essere il rapporto nella comunità piccola come la nostra, però molto sentita. Questo forse è il messaggio che abbiamo cercato di far passare la gente e la recepire, questo ci dà molta soddisfazione veramente. Abbiamo creato unità tra la gente senza fare accordi preelettorali, questa è la cosa che ci fa piacere. Voltiamo decisamente pagina, io ricordo, questo è il tema della ventitresima edizione della Meeting del Mare, tutto pronto a Marina di Camerota per la Kermesse che si terrà venerdì, sabato e domenica. E a ricordare gli ospiti della Tre Giorni ai nostri microfoni è il patron Don Gianni Citro. Ieri lo abbiamo incontrato sul porto di Marina di Camerota, vediamo. Veniamo intanto a quelli che sono i protagonisti, grandi protagonisti, parliamo anche dei giovani che si esibiranno durante la Tre Giorni. Sì, i giovani sono tantissimi, 20 band al giorno provenienti da tutta Italia, selezionate con grande fatica perché scegliere è sempre una cosa complicata, soprattutto scegliere tra tanti giovani bravissimi, però poi purtroppo lo si deve fare perché altrimenti l'evento dovrebbe durare un mese, non tre giorni. Eppure diamo tanto spazio perché suonano 60 band e i concerti si concluderanno con le esibizioni di tre artisti. Il primo è Franco 126 che fino a un anno fa era insieme a un suo amico e compagno di avventura musicale che si chiama Carl Breiv. Poi questo progetto si è spaccato in due e questi due artisti vanno ognuno per conto suo. Carl Breiv è uno degli ultimi arrivi, diciamo, nella grande vetrina della musica, artisti che funzionano molto sui social perché oggi un grande canale di diffusione di tutto e anche della musica sono i social. E quindi Franco 126 è un poeta urbano, romano, canta le storie d'amore anche di confine, di periferia di questa meravigliosa metropoli che è un po' come dire traccia di tutto quello che succede nel mondo, nel mondo dei più giovani. È un artista molto amato dai più giovani, mentre invece il secondo giorno dell'evento, cioè Sabato 1, una band storica di origini un po' napoletane, un po' inglesi, che sono i Planet Funk, che dalla fine degli anni 90, diciamo, stanno raccontando delle cose bellissime attraverso sperimentazioni elettroniche. Sarà una grande serata di danza, di musica proprio, di ballo. E poi l'ultima sera un cantautore di eccezionale talento. Io sono profondamente innamorato di questo cantautore che si chiama Francesco Motta. Per intenderci quello che a Sanremo in una canzone bellissima si chiedeva dove è l'Italia. Il Meeting del Mare, in questo giorno Festa della Repubblica, si concluderà con Francesco Motta. Poi ci sono tante cose di installazioni d'arte, mostre fotografiche di grandissimo interesse. Quest'anno due esperimenti teatrali. Uno di un liceo di Telese, in provincia di Caserta, sul tema della follia. Uno spettacolo realizzato su un libro del magistrato Nicola Graziano, già presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, che è matricola 001. E un altro spettacolo realizzato da 15 detenuti del carcere di Santa Maria Capoavetere, che con il magistrato di sorveglianza che il regista dello spettacolo nella chiesa parrocchiale di Marina, nella notte tra l'uno e il due, faranno, a l'una proprio di notte, all'interno della chiesa uno spettacolo che si intitola Epoche, che è una parola in greco antico che vuol dire sospensione, ed è un inno alla libertà che abita anche nel giudizio della gente, perché nessun uomo è libero se altri esseri umani non smettono di giudicare gli altri in maniera inappellabile. L'intervista integrale realizzata con Don Gianni Citro ve la proporremo nella terza ed ultima parte del nostro telegiornale. A Palinuro entra nel vivo la settimana della cultura, tanti gli appuntamenti, li ricordiamo tra qualche istante di pubblicità. Dopo oltre 25 anni di storia, il nostro percorso continua. Si rafforzano i legami con la nostra terra. Ci impegniamo per un futuro sereno, dando corso all'innovazione, con trasparenza, radicamento, concretezza. Valori con i quali siamo cresciuti. Valori oggi ancora più condivisi. Accarezziamo un sogno per farlo diventare realtà. Banca del Cilento di Sassano e Vallodidiano e della Lucania. Noi rendiamo concrete cose immaginate. Siamo al tuo fianco, sempre. Verdura? Frutta e verdura? Pronti! Salumeria? Salumeria? Pronti! Macelleria? Macelleria? Pronti! Panetteria? Panetteria? Pronti! Corsie? Corsie? Pronte! Ok! Potrei fare il tuo ordine chiamando il 333 64 72 281 oppure inviando un messaggio whatsapp il sole 365 pensa a consegnartelo. Sole signore, consegna a domicilio. Hai direttamente il sole a casa. Supermercato sole 365 a Vallodella Lucania, via Andrea dei Polibis. Poi, vai, vai, scusate la frutta! Noi! Rifiniture di prima scelta, impianto radiante climatizzatore caldo-freddo, muratura esterna termo-acustica da 43 cm, infissi in alluminio legno, videosorveglianza ed anti-intrusione, pannello acqua calda solare per acqua sanitaria, abitazioni composte da piano giorno e piano notte, garage e tavernetta, giardini e parcheggi esterni, in via Pantaleone Tipoldi a Vallodella Lucania, Salerno. Info 335 67 24 363, Agenzia Immobiliare Studio Vallo di De Vita Carmelo e C. Gruppo Meola SRL Ben ritornati in studio, ci occupiamo di cultura con la carmesse voluta e organizzata dal sindaco di Centola, Carmelo Stanziola. Tanti gli appuntamenti inseriti in un ricco cartellone inaugurato, inaugurata, ecco, lunedì questa settimana della cultura, ma andrà avanti ancora per diversi giorni. La conferenza stampa presso Palazzo Mainenti, sede del parco. C'eravamo anche noi. Mostre, spettacoli, laboratori didattici e incontri culturali uniti alla trasmissione di valori e modelli di comportamento da seguire affinché si promuove e diffonda la cultura in tutti i suoi aspetti, sia nel capoluogo che nelle varie frazioni. Al via nel comune di Centola la settimana della cultura, un momento fortemente voluto e supportato dal comune di Centola con il sindaco Carmelo Stanziola e dalla consigliera comunale con delega della cultura Maria Di Stasi. L'evento è stato ufficialmente presentato nei giorni scorsi nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Vallo della Lucania presso la sede del Lente Parco. Sì, intanto ringrazio tutti coloro i quali si stanno adoperando in questo spaccato culturale su cui noi come amministrazione abbiamo creduto sin dal primo giorno di insediamento. Io ho creduto e continuare a credere che è l'unica forma intellettuale e culturale è quello di stare insieme, quello di interscambiarsi, quello di confrontarsi, quello di programmare, quello di condividere. E l'obiettivo di questo evento, che peraltro quest'anno non ricopre soltanto una settimana ma si allarga anche durante altre giornate nel mese di giugno perché completeremo l'evento il 29 di giugno. Quindi è un discorso su cui come dicevo come amministrazione abbiamo investito perché oggi più che mai ritengo che questi aspetti fondamentali, io stamattina ho partecipato anche ad un incontro a Teggiano sulla cittadinanza attiva dove si è parlato proprio di libertà di pensiero, di cultura e quindi sono elementi che oggi a mio avviso anche nell'ambito e soprattutto nell'ambito amministrativo bisogna investire. Io ringrazio la consigliera Di Masi che ha voluto fortemente questo spaccato, ripeto, dove ci saranno convegni, ci saranno confronti, ci saranno aperture con le scuole e da lì che bisogna partire perché una buona cittadinanza, una buona comunità parte con dei principi e con dei valori forti. Allora il messaggio che noi come amministrazione vogliamo dare è proprio questo. Chiaramente tutto questo è inserito anche in un discorso di valorizzazione dei luoghi, di valorizzazione dei percorsi, di valorizzazione delle iniziative. Noi oggi abbiamo scelto come location per la conferenza stampa proprio il parco perché nell'ambito di questo progetto per la seconda edizione della settimana e quindi delle giornate della cultura sono previsti anche degli eventi, tra cui uno il nove sera proprio sulla molpa di Palinuro che è un simbolo storico, culturale non solo di Palinuro ma del Cilento, della provincia e della regione Campania. Quindi un progetto questo che come dicevo serve anche a valorizzare il luogo. Quindi significa turismo, significa enogastronomie perché all'interno di questo progetto noi andremo a parlare di quello che è un'altra iniziativa su cui abbiamo investito individuando il comune di Centola tra i 500 e oltre comuni d'Italia dei città del vino e quindi anche in questo contesto noi andremo a parlare di questo ulteriore valore di cui Centola beneficia. Quindi il progetto Settimana della Cultura è un qualcosa che ripeto mette insieme una serie di elementi che servono a far crescere in particolar modo i territori. Dopo il Tg delle 20 e 30 questa sera vi riproporremo la cerimonia integrale che si è svolta presso l'Oasi Fiume a Lento per la giornata dedicata alla Madonna dell'acqua con l'intervento del Presidente del Consorzio Velia Franco Chirico che ricordiamo annuncia due importanti finanziamenti per il Cilento. E poi tra qualche istante di pubblicità torna Don Gianni Citro per presentarci la ventitresima edizione del Meeting del Mare. Intanto io mi fermo qui, è tutto per l'edizione odierna del nostro telegiornale, arrivederci.